ecco uno dei fratellini piccoli della spider co questo è il navigator è un gentleman piccolino la clip come vedete non è intercambiabile il coltello quindi è prettamente destro completamente in acciaio anche il manico sicurezza back lock la lama qui è completamente seghettata la forma è proprio adatta all'impugnatura con quattro dita ottimo anche per il taglio abbastanza piccolo come modello quindi ottimo da portare giornalmente per i lavoretti quotidiani taglia in maniera eccezionale l'acciaio è sempre vg 10 molto molto bello